Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale, io sono Davide. Come ho annunciato nel video dell'unboxing, se lo avete visto, oggi andrò a presentare il video tutorial di Modern Art. Andremo quindi a vedere le regole di gioco e lo svolgimento. In questo gioco, che è da 3 a 5 giocatori, saremo dei proprietari di un museo d'arte e all'asta cercheremo di aggiudicarci dei dipinti di vari artisti. Ovviamente questi dipinti avranno un valore diverso in base all'importanza dell'artista stesso. Vedremo ovviamente nel tutorial come questo avviene. E alla fine del gioco, il proprietario del museo più ricco sarà ovviamente il vincitore. Ma non perdiamo tempo e andiamo a vedere subito le regole di gioco e lo svolgimento. Andiamo a vedere subito la preparazione di gioco. Per prima cosa viene preso il mazzo di carte dipinto, che è composto da 70 carte con dipinti di 5 artisti diversi. Dopo aver preso il mazzo ed averlo mescolato, vengono date un tot numero di carte in base al numero di giocatori, come scritto nel regolamento di gioco. In questo tutorial farò un esempio a 3 giocatori, quindi in questo caso vengono date 10 carte a ciascun giocatore. Queste carte che si ritroveranno in mano i giocatori rappresentano i dipinti che verranno messi all'asta durante il primo round. Non sono quindi dipinti che i loro musei possiedono ancora, ma li potranno acquistare durante le aste nel corso del round. Le carte rimaste non verranno usate fino ai round successivi. Dopodiché si sceglierà un giocatore che rappresenterà la banca e questo giocatore distribuirà 100.000 dollari ad ogni giocatore. Dopo che è stata distribuita ad ognuno tale somma, ogni giocatore sceglie uno schermo museo e lo pone di fronte a sé. Ovviamente se non c'è accordo su quale schermo è scegliere, vengono dati a caso. Questi schermi museo serviranno a mantenere nascosti i soldi durante la partita che ogni giocatore possiede, in quanto nessun altro giocatore deve sapere quanti soldi in quel momento durante la partita ha un giocatore. Ovviamente io per mostrare lo svolgimento di gioco toglierò questi schermi per avere una visuale che faccia capire appunto lo svolgimento di gioco. Come ultima cosa viene messo al centro del tavolo il tabellone di gioco e viene dato il martello del banditore d'asta al primo giocatore che nel caso come consiglia il regolamento viene dato al giocatore più giovane. Andiamo a vedere ora lo svolgimento del gioco. Modern Art si svolge in quattro round. Durante ogni round i giocatori mettono all'asta i dipinti che hanno in mano. Non appena il quinto dipinto di uno degli artisti viene messo in gioco, il round termina e tutti i dipinti che sono stati acquistati in quel round vengono venduti alla banca. Il valore di un dipinto dipende dalla popolarità del suo artista in quel round. Durante i round successivi la popolarità può cambiare facendo aumentare, diminuire o perdere totalmente valore al dipinto di un artista. Ma andiamo a spiegare nel dettaglio lo svolgimento di questo gioco. Partendo dal primo giocatore, quindi il giocatore che possiede il martelletto, sceglie una carta dalla sua mano che metterà all'asta. Una volta scelta la carta, la metterà a faccia in su di fronte a tutti, al centro del tavolo, in maniera che sia visibile a tutti quanti. A quel punto questa carta verrà messa all'asta. In che maniera? Lo spiego subito perché ogni asta è diversa in base al simbolo che troviamo sopra ad ogni carta. Questo simbolo qui in alto a sinistra. Troviamo cinque tipi di asta diversi in base ai simboli che sono riportati sopra alle carte. Spiegherò subito nel dettaglio le differenze tra ogni asta. Il primo tipo di asta è l'asta aperta che ha questo simbolo qui. L'asta aperta è una normalissima asta in cui ogni giocatore, in ordine sparso, può fare un'offerta ad alta voce e il banditore deciderà in base al momento in cui non verranno fatte più offerte, come nelle aste normali batterà con il martelletto 1, 2 e 3, al terzo colpo il giocatore che avrà fatto l'offerta più alta si aggiudicherà questa carta dipinto. A quel punto quel dipinto sarà di suo possesso e lo potrà mettere di fronte alla sua postazione. Il secondo tipo di asta è l'asta a offerta singola in cui partendo dal giocatore alla sinistra del banditore e facendo un unico giro viene fatta un'offerta appunto singola da ogni giocatore oppure un giocatore può anche passare quindi non fare nessuna offerta. Ovviamente il giro terminerà dal banditore e anche qui in questo caso ovviamente chi avrà fatto l'offerta più alta si aggiudicherà il dipinto. Il terzo tipo di asta è l'asta nascosta. In questo caso tutti i giocatori, incluso il banditore, fanno contemporaneamente un'offerta in segreto scegliendo quanto e se offrire del denaro per questo dipinto. Metteranno quindi il denaro nella propria mano senza farsi vedere ovviamente dagli altri giocatori anche se non si vuole offrire nulla si fa finta di mettere del denaro nella mano a quel punto tutti i giocatori contemporaneamente apriranno la mano e il giocatore che avrà fatto l'offerta più alta ovviamente si aggiudicherà il dipinto. In tutti e tre questi tipi di asta se nessun giocatore dovesse fare offerte per ottenere i dipinti li ottiene gratuitamente il banditore dell'asta. E nel caso dell'asta nascosta in cui ovviamente può accadere che vengano fatte più offerte uguali essendo un'offerta appunto nascosta e fatta simultaneamente nel caso in cui più giocatori offrano la stessa cifra per il dipinto sarà il banditore dell'asta anche in questo caso ad aggiudicarselo a quel prezzo. Il quarto tipo di asta è l'asta a prezzo fisso. In questo caso il banditore stabilisce un prezzo per il dipinto e lo dichiara a voce alta. Ogni giocatore a partire da quello alla sinistra del banditore procedendo in senso orario può acquistare il dipinto a quel prezzo. Quando qualcuno acquista il dipinto l'asta termina immediatamente. Se nessuno si aggiudica il dipinto il banditore deve acquistare il dipinto al prezzo che aveva dichiarato. Ovviamente quindi il banditore deve necessariamente stabilire a inizio asta un prezzo che può eventualmente appunto pagare. L'ultimo tipo di asta è l'asta doppia. In questo caso il banditore può scegliere di giocare una seconda carta dipinto. La seconda carta dipinto però deve essere necessariamente dello stesso artista e non può essere una carta in cui il tipo di asta sia nuovamente asta doppia ma deve essere una qualunque altra carta con un tipo di asta appunto diverso. In questo caso quindi si farà l'asta come ho detto in base al tipo di asta della seconda carta e chi si aggiudicherà l'asta avrà diritto ad ottenere tutte e due le carte. Nel caso in cui però il giocatore, il banditore dell'asta non possa o non voglia giocare una seconda carta dipinto a questo punto può intervenire partendo dalla sinistra del banditore e procedendo in senso orario può intervenire un altro giocatore e giocare lui la seconda carta dipinto che ovviamente come detto deve essere sempre dello stesso artista e non può essere del tipo di asta doppia. In quel caso il giocatore che ha deciso di giocare la seconda carta dipinto diventa lui il nuovo banditore dell'asta. Si procede appunto se nessuno vuole giocare una seconda carta si procede in senso orario e nel caso in cui nessun giocatore giochi una seconda carta di questo autore e con un'asta diversa questa carta verrà giudicata gratuitamente dal primo ovviamente banditore d'asta che aveva giocato questa carta. Nel caso in cui invece come ho detto un altro giocatore giochi una seconda carta e diventi lui il nuovo banditore dell'asta quindi facciamo l'esempio che qui c'è il primo giocatore il secondo non gioca nessuna carta gioca il terzo giocatore una carta diventerà lui il nuovo banditore d'asta e quindi nel turno dopo questo giocatore qui avrà saltato il turno per fare il banditore dell'asta si passerà in senso orario e sarà nuovamente questo giocatore il banditore d'asta. Quindi questo giocatore perderà il diritto a giocare una sua a mettere all'asta una sua carta dipinto nel prossimo round in quanto come detto la mano passerà in senso orario al giocatore successivo. Questi erano i cinque tipi di asta che appunto troviamo sopra ad ogni carta dipinto ma quindi cosa succede quando termina un'asta? Il giocatore che ha fatto ovviamente l'offerta più alta si aggiudica la carta dipinto e paga la somma che ha offerto al banditore dell'asta. Nel caso in cui l'offerta più alta fosse stata fatta dal banditore a quel punto il banditore pagherà la somma dovuta alla banca. Il vincitore dell'asta si aggiudicherà quella carta dipinto che quindi andrà a posizionare di fronte a sé. A quel punto quel dipinto è di proprietà di questo museo. A fine round questo dipinto verrà venduto. Il giocatore alla sinistra dell'ultimo banditore riceve il martelletto e mette all'asta una nuova carta dipinto scegliendola dalla propria mano. Si prosegue nel gioco in senso orario fino alla fine del round. Vediamo ora come termina un round. Durante il round bisogna tenere traccia di quanti dipinti vengono venduti per ogni artista. Questo perché? Perché dal momento in cui viene messa all'asta il quinto dipinto di un artista il round termina immediatamente. Quindi come possiamo vedere in questo esempio quando un giocatore mette questa carta dipinto di questo artista all'asta da come vediamo ne possiede due questo giocatore una questo quindi sono tre con questa quattro questa sarebbe la quinta carta di questo artista. A questo punto il round termina immediatamente questa carta non viene messa all'asta e non viene venduta a nessuno ma rimane lì in venduta. Nel caso in cui dovesse capitare che la carta che fa terminare il round dovesse essere la seconda carta che viene giocata per un'asta doppia come ho spiegato prima del funzionamento dell'asta doppia allora in quel caso ci saranno due carte in vendute verranno messe al lato del tabellone di gioco spiegherò quale funzione avranno queste carte in vendute. Una volta terminato il round cosa succede? Ogni giocatore venderà le proprie carte dipinto in base al valore di quell'artista Il valore come viene fatto? Si va a guardare la maggioranza di carte dipinto che sono state acquistate e non quindi anche le ultime che ho fatto vedere prima e si vede qual è la maggioranza di artista che troviamo in questo caso come possiamo vedere abbiamo cinque carte dell'artista Ramon Martins quindi uno, due, tre, quattro e cinque per cui sarà l'artista che avrà più valore rispetto agli altri Si andranno a prendere quindi i gettoni valore artista che vanno da 30 a 10 e in questo caso visto che l'artista che abbiamo detto ha il maggior valore era Ramon Martins verrà messo nella riga del primo round e nella sua colonna il valore 30 Si andrà poi a guardare il secondo giocatore il secondo, scusate, artista con il valore, con i dipinti il numero maggiore di dipinti che è stato venduto che in questo caso come possiamo vedere e sono in due a parità perché ci sono due dipinti dell'artista azzurro e due dipinti dell'artista rosso quindi in questo caso cosa succede? Il valore 20 che è il secondo valore viene dato all'artista che si trova più alla sinistra del tabellone di gioco quindi in questo caso tra l'artista azzurro e l'artista rosso a più a sinistra si trova l'artista azzurro avrà lui valore 20 di conseguenza l'artista rosso sarà di valore 10 in questo round i dipinti degli altri due artisti non avranno alcun valore a questo punto quindi partendo in senso orario dal primo giocatore ogni giocatore venderà i suoi dipinti alla banca e otterrà il relativo valore quindi in questo caso questo giocatore che ha due dipinti dell'artista verde riceverà 60.000 dollari perché ha due dipinti di questo artista che ha valore 30 questo giocatore riceverà 30 30.000 dollari anche lui e anche questo giocatore le carte ovviamente verranno scartate poi si passerà all'artista con il secondo valore quindi l'artista azzurro questo giocatore riceverà ulteriori oltre ai 30.000 che ha preso prima per aver avuto un dipinto dell'artista verde ne riceverà altri 40.000 verrà scartate le carte e gli altri giocatori compreso questo qui che sono rimasti con artisti ah chiedo scusa c'è ancora questo giocatore che ha ancora l'artista rosso quindi guadagnerà altri 10.000 dollari scartiamo nuovamente anche questa carta e questi due giocatori che rimangono con gli artisti che non hanno alcun valore dovranno semplicemente scartare le carte e non riceveranno alcun denaro si passerà quindi al secondo round che come spiegato nel regolamento in base al numero di giocatori verranno date anche qui un altro tot numero di carte per tre giocatori nel secondo round verranno date sei carte nel terzo round altre sei carte nel quarto round non verrà data alcuna carta si procederà quindi anche queste ovviamente che non sono state vendute verranno scartate si procederà quindi come per il primo round anche al secondo round con la differenza che cosa succederà nei successivi round il valore ovviamente degli artisti cambierà potrà cambiare perché se nel round successivo ci sarà una maggioranza di altri artisti rispetto a questo si andranno a mettere i gettoni di valore dell'artista in base appunto alla riga del secondo terzo e quarto round quindi questi valori si andranno a sommare ai round precedenti faccio subito l'esempio se nel secondo round l'artista verde Ramon Martins si aggiudica come secondo avrà valore 20.000 dollari quindi il giocatore che ha un dipinto di quest'artista riceverà 50.000 dollari perché riceverà la somma quindi se avrà due dipinti di quest'artista ne riceverà 100.000 cosa succede però se un artista che si era aggiudicato diciamo così in classifica nel primo round nel secondo round non si aggiudica al terzo posto ma al quarto e al quinto quindi ai due posti che non si ha valore in questo caso il giocatore che avrà uno o più dipinti di quest'artista non riceverà alcuna somma di denaro quindi questi 20.000 dollari non avranno alcun valore perché nel round corrente non appunto i suoi dipinti non avevano nessun valore può riprendere però valore se eventualmente nel terzo round dovesse di nuovo in classifica trovarsi tra i primi posti quindi essere o al primo 30.000 oppure semplicemente al terzo quindi in questo caso che si dovesse aggiudicare tra i primi tre posti in classifica il giocatore che ha quei dipinti per ogni dipinto andrà a prendere la somma dei suoi valori quindi in questo caso 40.000 per ogni dipinto quindi andando avanti così fino al quarto round si prenderanno sempre le somme del totale ricordandosi sempre che se siamo nel quarto round e questo artista non ha valore in quel round non prenderà neanche le cifre precedenti quindi la somma delle cifre precedenti ovviamente a fine partita il giocatore che avrà dietro al suo schermo perché ricordo come ho detto all'inizio alla preparazione del gioco ogni giocatore avrà uno schermo davanti che ovviamente non mostrerà il valore della sua banca chiamiamolo così del suo museo chiedo scusa alla fine del gioco dei quattro round il giocatore con più denaro sarà il vincitore volevo solo fare una precisazione prima della fine di questo tutorial perché durante il corso della partita potrebbe capitare che un giocatore o più finiscano le loro carte dipinto dalla mano in quel caso cosa succede durante quel round ovviamente loro non potranno mettere all'asta delle carte dipinto essendo che non ne avranno le avranno terminate ma semplicemente potranno comunque partecipare all'asta fino a che ovviamente hanno dei soldi per poter comprare dipinti nel round successivo che verranno date nuovamente delle carte potranno rientrare tranquillamente in gioco e mettere all'asta quindi i vari dipinti altrimenti se come nel caso del quarto round che non vengono più date delle carte quel giocatore potrà solo partecipare alle aste senza mettere dei propri dipinti in appunto in vendita all'asta questo era il video tutorial di Modern Art spero di essere stato chiaro e di averlo spiegato al meglio vi ringrazio come sempre per avermi seguito e vi auguro a tutti buon gioco e vi auguro